Non è ancora il momento di alzare bandiera bianca, non ci pensano proprio i dirigenti della Virtus e in particolare il presidente Cristina Costantino. Tutti credono nella possibilità di salire in corsa, almeno sul treno che porta ai play-out. La classifica vede i salentini in fondo con 12 punti ottenuti, ma con 16 partite ancora da giocare, la prossima in casa contro il Nola, può ancora cambiare la storia di questo campionato. La classifica ci dice che si può ancora fare, io ci credo e ci ho sempre creduto. In questa settimana sono avvenuti anche degli inforzi che ancora non sono stati comunicati, saranno comunicati penso tra oggi e domani. Per cui anche il fatto di inserire delle perine importanti di categoria è proprio perché crediamo in queste e per cui la società le sta provando tutte da questo punto di vista. Nel giorno scorso intanto la società ha deciso di separarsi con il tecnico Antonio Toma che conclude la sua esperienza con 4 punti in 6 partite e di affidare nuovamente il timone della squadra Giuseppe Branà, l'artefice, nella passata stagione della promozione in Serie D del matino. Abbiamo deciso di fare una scelta sull'uomo mister Branà che non era stata mai una bocciatura nei suoi confronti a dicembre ma purtroppo i risultati non venivano e quindi si ha scelto di andare in questa direzione. Dando anche serenità al gruppo, molti conoscono già mister Branà e per cui è stato un ritorno molto ben voluto sia da ragazzi anche da tutta la piazza, da quello che ho potuto vedere sui social. L'esordio bis di Branà, la guida della Virtus Matino, è fissato per domenica sul neutro di Ugento contro il Nola, fondamentale ottenere i tre punti per dare ossigeno alla missione salvezza della Virtus Matino. A tutti ragazzi sempre dico cercate di affrontare le gare con la mia stessa cattiveria e determinazione, mi auguro che riesco a passargli questo tipo di voglia, di forza perché serve tanto in questo momento, incominciando dal Nola, poi abbiamo mercoledì il turno infrasettimanale a Fasano, poi abbiamo il derby col Casarano, abbiamo diverse possibilità, ci sono 16 partite, è un campionato lungo per cui i play out io oggi metterei la firma. Grazie. 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 Grazie a tutti.